salve a tutti e ben ritrovati con cittadini di ultuan oggi siamo con un'altra partita di rider from dark elf contro costa dei vampiri andiamo subito a vedere la lista di dark elf come al solito vi ricordo che un mi piace ed un commento aiutano il video con l'algoritmo ed ho questo allora abbiamo notare lo schieramento molto ampio e particolare truppe da tira avanti truppe meli dietro per niente scontato la la front line effettiva sarebbero blicksword come vedete qua ce ne sono cinque e una witch elves doppia witch elves queste sono utili per il rampage e perché comunque hanno funzionano bene contro la fanteria abbiamo poi due dark riders qui è un tazzo qua sono molto utili per andare in peeling su qualcosa tenere bloccato qualcosa per la mobility caricare le attiglierie caricare il tiro ho cliccato l'unico che è anti large infatti questo e poi andiamo a vedere al core della della formazione dark shad 3 e 3 shades shades ancora più importanti perché sono nascosta fino a quando iniziano a sparare come vedete e quindi possono avvicinarsi molto fare danno a unità molto importanti per finire andiamo a vedere lord lord una maga del una c maga del fuoco con solo barney head pulire 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 la chaff anche perché la fanteria non è tantissimo andiamo a vedere subito il roster di costa front line di pistole per assorbire qualche carica sparare a chi li sta caricando anche perché sono supportati molto bene da due bombers abbiamo poi dietro i gandani bob della fama che sono anche anti large e ap sono sostanzialmente delle alabalda interessanti fanno comunque al centro qui non è detto che servano troppo sono più interessanti magari ai lati perché si difendono da soli ma proprio la disposizione della formazione era questo in modo che quando entri qui sei in una conca di volta abbiamo poi due unità di scurvi dogs utili per accompagnare fuori la roba o andare a caricare gli aceri poi abbiamo morgurs da una parte anche loro anti infantile armor piercing con frostbite quindi difficile liberarsi di loro una volta che si è stati caricati e poi abbiamo il fiore all'occhiello che sono lampre's revenge queste hanno rigenerazione sparano sono fatte in corpo a corpo se arrivano in late game con una buona quantità di vita sono cazzi poi abbiamo schierati quattro mortai proprio per andare a schermagliare a combattere sul tiro quelli che sono gli aceri o le balestrieri delle fazioni elfiche ottime possono fare molto male sia la fanteria che approccia e per questo viene tenuta arretata sia sul tiro e per portare massa abbiamo quattro anime dei dulx che difendono anche il tiro entriamo subito in partita tendenzialmente vedrei esatto il coso inizia a sparare ognuno su uno forse un po ok due spari io avevo fatto due su uno e due sull'altro perché li vuoi eliminare proprio non vuoi solo danneggiarle anche con metà vita un'unità di questa ti può fare veramente male rider incomincia a portarli subito indietro e poi li riporta avanti perché vedete come hanno già smirato qui parte un bellissimo burning head vediamo se verrà evitato no questi e questi zombie se lo prendono in pieno peccato non ci fosse niente a caricarli in quel momento perché li avrebbe mandati decisamente in crumbling anche questa si prende un quarto di vita abbondante quasi metà vita adesso il tiro che lo sta facendo come vedete la front line degli zombie si è già completamente sciolta tranne queste due pistole qui che invece possono fare molto bene peccato queste dark shell non abbiano lo scudo perché le avrebbero sicuramente difese dal tiro delle pistole molto meno dal tiro del dei mortai come vedete i mortai stanno facendo le loro i loro danni adesso che mortai sono appresi con il tiro perché devono per forza sparare al tiro la fanteria può avanzare a rasciare queste pistole qui anche perché è fanteria che è scudo d'argento sul fianco abbiamo le shades che stanno facendo una bella conca di fuoco credo che a questo punto la faranno o sugli animated d'ulks o in parte su lampreys revenge arrivano le witch elves e la carica di dark riders su questi animated d'ulks mamma mia il danno che stanno prendendo le lampreys revenge da solo una shades o due una una mamma mia il danno che ha preso in questo caso anche gli animated d'ulks stanno facendo la stessa fine witch elves da questa parte che caricano sono molto più prone al tiro ma possono caricare indisturbate questi gannery mob la front line da questa parte è un tira e molla è vero che quella dei della costa dei vampiri è esploso sono rimaste giusto due pistole perché anche queste stanno andando in crumbling ma queste questi bombers qui hanno sostanzialmente sciolto un paio di unità da quest'altra parte abbiamo un morgus che è stato bloccato da dark riders queste black sword stanno andando a supportare le altre dark riders proprio per eliminarlo questa è un'unità che in combinazione con altre può fare male qui abbiamo di nuovo le blicks word che caricano le pistole devono stare attenti a questi bomber qui arriva un bellissimo burning head su questi bomber che erano tenuti pinnati da queste blicks word che prende anche la seconda mamma mia qui c'è un ottimo distruzione del potenziale guarda e soprattutto spara sulla witch elves guardate gli ha tolto un quarto di vita così da quest'altra parte le streghe sono riuscite ad arrivare sul mortaio anche solo per bloccarlo un attimo qua abbiamo questa shades che sta cercando di difendersi dall'animate ed ulx ha già cancellato le lampre di servange che sono qua che stanno andando definitivamente in crumbling con un paio di modelli sono morte in questo momento qui abbiamo le shades che possono tornare da un momento all'alto come questi dark riders al centro abbiamo i dark elves che sono ricompattati per gestire i damnet knight evocati da cilostra cilostra che si porta tide call e ghost of the past che è l'evocazione e anche l'evocazione di rotting promettion a quest'altra parte abbiamo una fanteria che è definitivamente arrivata sui mortai così come quest'altra non si ferma per gli animator ulx ma va davanti qua abbiamo i bombers che a questo punto possono fare molto molto meno abbiamo una shades ancora con una discreta quantità di modelli quindi abbiamo un'altra qua stanno tornando anche delle dark shards e direi che a questo punto quando questa roba qui sarà ingaggiata le dark shards potendo sparare sarà veramente veramente una brutta situazione per la costa dei vampiri qui abbiamo anche le witch elves che stanno arrivando sempre ad uccidere i mortai che tra l'altro stanno riuscendo comunque a continuare a sparare da quest'altra parte invece no decisamente sono già in crumbling che tempo se ne andranno da quest'altra parte gli animator ulx hanno gestito le shades ma vengono caricati le dark riders che probabilmente ci stanno queste altre shades che li supportano qua questi altri dark riders stanno facendo lo stesso mandandoli sempre in support anche perché qua adesso le blickswots sono tornate e arrivano sui mortai con anche la complicità dei dark riders che li bloccano prima che possano continuare a sparare sul tiro a questo punto il tiro è agitata di tutto l'unico che sta rimanendo in linea di tiro è questo ma è abbastanza basso evocazione di rotting prometeans che immagino che andando su queste blickswots qui ne è tornata un'altra vedete com'è costa dei vampiri col fatto che non può inseguire la roba dei dark elf gli torna a continuazione e anche un'unità con un quarto di punti vita può arrivare da dietro caricate il mortaio e distruggertelo qua sta succedendo la stessa cosa una masnada di blickswots insegue questi rotting prometeans in fuga quest'altra parte hanno azzerato tutta la resistenza dell'ultimo animated hooks scusate era un animated hooks non un rotting prometeans a quest'altra parte c'è un bel blobone blobone che però premia le shades nel poter fare fuoco su quello che vogliono anche questi rotting prometeans che tra 20 secondi se ne andranno cilostra rischia veramente tanto in questa posizione viene tenuto no dark riders che caricano gli animated hooks e tiro che si concentra tutto su cilostra in realtà tiro che sta facendo un sacco di fuoco amico la supreme sorceress gira a largo da eventuali problemi qui c'è un po di kite vengono caricati gli animated hooks e appena questo tiro sarà libero qui no niente è rimasta cilostra da sola vediamo se riuscirà a tenere un po di balance of power ma qui le shades si apprestano a spararle in faccia mamma mia ed è gg perchè per armi loss 3 2 1 ci siamo dai cos'è rimasto in campo niente è infatti crumbling voilà partita giocata veramente in maniera magistrale da parte di raida si vede la sua esperienza con le fazioni elfica le dark shard hanno preso decisamente schiaffi invece le shades hanno fatto meglio ma solo una ha fatto veramente bene la mag ha fatto bene le cavano ha fatto bene witch elves una bene e il resto sono blicks word che hanno avanzato sotto il fuoco e per distruggere tutto da quest'altra parte credo che mortai si sono così ripagati male molto molto male i lampi di serventia il fatto che questa unità sia stata sciolta in quel modo è un gran problema detto questo io spero che il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e un like per il per l'algoritmo vi ricordo anche che potete abbonarvi per accedere a tutti i video di anteprima poi come al solito link affiliati e link social in descrizione e nel primo commento pinnato ciao 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 ciao